Mi chiamo Eride Luca e sono stato testimone in Africa del lavoro dell'associazione LVA che si occupa di procurare acqua pulita nei villaggi. Una immensa quantità di famiglie ne è priva e se la deve procurare lontano sostengo la campagna Acqua e Vita e diventa anche tu un portatore d'acqua. Il 25-26 maggio viene Banchette Acqua e Vita. Con un contributo riceverai una piantina aromatica e ci aiuterai a ricostruire 10 pozzi danneggiati dalla guerra in Mali.